ciao a tutti ben trovati benvenuti se siete arrivati qui se siete approdati in questo canale questo è il mio canale quindi io vi accolgo e vi do il buongiorno sono Walter Scarfia il proprietario di questo canale e il canale porta il mio nome come si evince un pochino da tutti i video che spero che voi possiate vedere io sono non vedente innamorato della comunicazione e dominato da varie passioni la prima è la tecnologia ci sono diversi tutorial un video molto cliccato molto visualizzato è quello sull'utilizzo dell'iPhone di voiceover quindi su tutti i gesti che i non vedenti utilizzano per lavorare con il loro iPhone ma comunque ci sono anche tutorial su programmi normali tutorial su computer su come si utilizza il computer le varie sintesi le varie sperimentazioni che io faccio altre passioni mi piace molto la musica ci sono anche dei video musicali sulla chitarra che è lo strumento che suono di più ma anche su come si fa musica con i vari programmi e spero di darvi un pochino di indicazioni su quelli che sono i miei canali in modo che vi possiate incuriosire e vederli poi ultimamente l'ultimo video che ho fatto è un video sulle nuove lattine della coca cola in braille c'è anche tutta una serie di tutorial sul braille su come si utilizza su come si applica su come si scrive su come si legge altra cosa io sono responsabile per la catechesi regionale per le disabilità e quindi qualche video di opinione sulla catechesi e altri video di opinione insomma è un canale multiforme perché non voglio curare esclusivamente i video tecnici ma anche lavorare su una specie di brand niente con questo vi ringrazio vi do vi invito ad iscrivervi al mio canale vi saluto e mi raccomando di fare community quindi se potete commentate i miei video e io sarò molto lieto di potervi rispondere per chi ha un canale di poter anche visitare i vostri canali ciao a tutti